Le difficoltà dello sport nella città di Sulmona sono rappresentate principalmente dagli impianti, faticenti e senza una gestione adeguata. Vedasi il campo ex potenza, intestato al compianto Gianfranco Mezzetti, ubicato in via 25 Aprile. La struttura versa in pessime condizioni e non avendo alternative, continua purtroppo ad ospitare partite di calcio nei campionati minori. L'ennesima denuncia arriva dai dirigenti dell'Ovidiana, società che milita in terza categoria che per rendere il campo in una condizione tra virgolette normale per disputare la gara dello scorso sabato contro il Massadalbe, sono stati costretti ad impiegare risorse umane ed economiche. È stata la terza volta del mese di aprile che noi personalmente abbiamo messo mano al campo Mezzetti per renderlo praticabile ed agibile all'attività sportiva, ha affermato il presidente dell'Ovidiana Giuseppe Cantelmi che non nasconde il dispiacere quando le squadre ospiti arrivando a Sulmona esprimono giudizi negativi. Sta per finire anche questa stagione con l'Ovidiana che gioca qui al Bezzetti, come vediamo un campo mal ridotto, non si è mai messo mano al terreno di gioco. L'auspicio è che per la prossima stagione quest'impianto, questo campo possa essere sistemato al meglio, anche per fare bella figura nei confronti delle squadre che vengono a giocare qui. Esattamente, lo stadio Mezzetti, l'impianto sportivo Gianfranco Mezzetti sappiamo che versa in condizioni scandalose. Noi come società abbiamo fatto presente questa situazione dall'inizio dell'anno, abbiamo investito di tasca nostra delle somme per far sì che questo campo possa stare in condizioni decenti. È un impianto nel quale ogni domenica vengono altre realtà della provincia e penso che sia lo specchio della città lo stato di degrado in cui versa questo impianto. L'impegno di realizzare il manto sintetico si è arenato con la caduta dell'amministrazione comunale. L'ex assessore allo sport, Luciano Marinucci, annunciò infatti che per quest'anno sarebbe stato inserito l'apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione. Lo sport in generale è però sempre rimasto penalizzato. Basti pensare quando furono tolti 150.000 euro agli impianti sportivi per dirottarli al centro storico. Le società non digerirono questo tipo di trattamento. L'auspicio è che ora lo sport non diventi un argomento soltanto della campagna elettorale. Spero che con le prossime amministrative, con l'arrivo di un nuovo assessore allo sport venga fatto un passo deciso in avanti circa l'affidamento in gestione degli impianti sportivi perché credo sia inaccettabile proseguire su questa strada.